mai senza monge natural super premium le crocchette made in italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro rieccoci qua ben ritrovati a tutti buona giornata da radio rossa nera venerdì 5 maggio è sempre carina da dire venerdì 5 maggio del 2023 torniamo in diretta per questo mattino milan siamo ormai vicinissimi anche a milan lazio ormai mancano poco più di 24 ore perché già alle 15 di domani si torna in campo 14 il nostro pre partita la vicinanza alla vicinamento alla partita la viviamo direttamente oggi con la conferenza del mister ci sarà pelle rossa nera alle 16 insomma è un venerdì classico di radio rossa nera enrico boiani ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti è un venerdì anche di calciomercato perché oggi gazzetta dello sport e parla di brain diaz tra poco ne parliamo è un venerdì che essendo di vigilia parlerà molto di probabili formazioni con un altro cambio ancora rispetto al recente passato visto che prima di una sfida di champions avevamo adottato dei turnover molto pesanti con la lazio visto l'impegno questi punti persi chissà si torna a rivedere la formazione titolare io da qui ripartirei prima di insomma mi sembra anche giusto fare i complimenti al napoli per lo scudetto perché insomma al di là di tutto quello che è successo anche in champions eccetera eccetera però polemiche a parte lo scudetto direi che è stato ampiamente meritato uno scudetto che si poteva quantomeno non tanto difendere perché comunque il napoli si è dimostrato nettamente migliore come passo ma almeno non ritrovarsi il giorno dello scudetto del napoli a 22 punti una roba del genere dalla vetta ecco questo si poteva fare però è andata così sì bisogna fare i complimenti comunque una squadra che ha dominato dall'inizio alla fine del campionato non c'è niente da dire lo avrebbero vinto credo quest'anno contro qualsiasi avversario si poteva onorare in maniera diversa si poteva provare a lottare non dico fino in fondo però comunque fino a qualche giornata in più si poteva rimanere comunque un pochino più a contatto si poteva fare tante cose ma questa stagione insomma per il mio bilancio alla fine è stata un pochino diversa è stata molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso in serie a quindi è stato difficile per tutti lottare contro il napoli bisogna dire comunque che il milan tra campionato e champions e forse un pochino anche l'inter non so vedremo come andrà la seconda partita però ormai il napoli il campionato l'ha già vinto sono le uniche squadre o il milan l'unica squadra ad aver messo sul campo un pochino in difficoltà il napoli però solo nelle due sfide pioli ha sempre detto soprattutto l'anno scorso che il campionato si vince con le piccole il milan con le piccole ha perso veramente un'infinità di punti il napoli li ha presi tutti o quasi ecco quindi oltre a vincere ad aver vinto molti big match quindi ci ritroviamo con questa classifica complimenti al napoli è uno scudetto più che meritato e niente adesso noi pensiamo a noi stessi pensiamo a noi stessi cioè quello che succederà da domani in poi perché parte un weekend ricchissimo perché come scrive gazzetta tutti contro tutti c'è milan lazio sabato alle 15 c'è roma inter sabato alle 18 e c'è atalanta juve domenica alle 12 30 quindi è veramente una sorta di royal rumble a 5 dalla fine per per il posti champions league il milan leggiamo la parte che riguarda punti rossoneri sar il cliente peggiore per il diavolo a rilento pioli può solo vincere volta gazzetta ci ricorda una statistica che speravo di non di non vedere io ho fatto un conto un po più ampio con il media punti sulle 18 del 2023 però ultime nove giornate 11 punti cioè siamo appena sopra il punto a partita è tremendo come dato sì in nove giornate hai una media quasi da no no la retrocessione no ma da quinto ultimo sesso ultimo posto cioè tremendo veramente ce ne siamo accorti anche ieri simo quando abbiamo fatto la classifica del 2023 se togliamo quelle se togliamo la grande partita al maradona contro il napoli e togliamo quelle due tre partite di assestamento con la difesa tre il resto sono pareggio sconfitte o quasi quindi quando l'ho letto oggi su gazzetta sono un po' rimasto onestamente perché lo faccio in diretta perché veramente sono sì è una situazione brutta ma lo sappiamo un campionato quest'anno speriamo di chiudere bene di chiudere dignitosamente per quanto mi riguarda poi capiremo come andrà in Champions League naturalmente la vittoria della Champions League può mandare al bar tutti i giudizi e le finanzi che si fanno ma questo credo che sia scontato e sottolineo la vittoria non la finale perché con la finale tu bello vai a Istanbul te la giochi tutto bellissimo però poi porti a casa a parte il passaggio del turno e quindi i soldi da quel punto di vista lì porti a casa niente credo che non so probabilmente si sarà visto nella corso della storia una squadra che vince il campionato l'anno dopo non va non arriva tra le prime quattro non così ecco non non così non con tutto quello che ne consegue con la Juventus non con Roma Lazio Atalanta che non è che siano avversari proibitivi e poi staremo a capire cosa cosa accadrà c'è ancora tempo per comunque salvarla questa stagione per quanto mi riguarda c'è il tempo ancora per arrivare secondi o terzi e la speranza deve essere quella perché altrimenti assolutamente sì purtroppo ci siamo messi in una situazione particolarmente negativa la classifica l'abbiamo vista poco fa potevamo essere una posizione di classifica quantomeno un pochino più tranquilla più o meno navigare nelle acque della Lazio ma adesso siamo in ben altra situazione devo essere onesto ci sono veramente rimasto un po' per questa media da 1 e 2 nelle ultime 9 giornate con tutto il bene la calma la tranquillità la lucidità la non so come dirti di questo mondo però 1 e 2 nelle ultime 9 giornate non ha scusanti per nessun tipo c'è niente che i mondiali gli infortuni i tanti impegni la rosa corta i giocatori che non rispondono la champions league il turnover e il sole la pioggia e il vento cioè non c'è niente che può giustificare una media da 1 e 2 nelle 9 giornate onestamente non ti dico che di ottenere una media da 2 punti a partita io te l'ho detto ieri io te l'ho detto ieri lo ribadisco anche stamattina non ci fosse e sottolineo non ci fosse la champions league non ci fosse tutto il contorno di cui abbiamo parlato quindi il rinnovo di contratto il fatto che comunque il percorso dei tre anni eccetera 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 non ci fossero queste cose qua qualsiasi allenatore nel mondo dopo aver vinto un campionato se fa 11 punti 9 partite 25 24 punti in 18 partite in 2023 eccetera 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 non sarebbe più l'allenatore di quella squadra lì poi c'è il percorso in champions il percorso di questi tre anni c'è un contratto importante c'è il gruppo che comunque ancora segue l'allenatore e quindi pioli ancora l'allenatore del milan ma è anche giusto così da un certo punto di vista però i numeri parlano chiaro e con certi numeri tutti e dico tutti gli allenatori a un certo livello vanno a casa vabbè parliamo della formazione dai ho lasciato calulu dietro per un semplice fatto perché tra calulu ciao e chi era un po ancora non ci sono le idee chiare più che altro chi è il titolare però vederlo in campo con la lazio forse l'unico che ha un po più difficoltà degli altri a recuperare nel breve periodo quindi mi lascio ancora un piccolo dubbio non ho ancora svelato la nostra fascia destra ho lasciato il banner apposta surprise teo tomori e un difensore diciamo potrebbe essere calulu potrebbe essere ciao potrebbe essere chi è tonali e crunic con benasser leao giru e mike meniani in porta a destra i ballottaggi calabria florenzi o salmacher messias perché dovrebbe avere un turno di riposo di jaz che ha sempre giocato dietro poco ne parliamo tra l'altro di diaz a proposito invece di prossimo futuro e ha giocato anche tutta la partita mercoledì quindi sono entrati entrato molto bene messias ha fatto un'ottima ora abbondante di gioco salmacher e quindi si combattono loro il posto da titolare e dietro può essere un turno di riposo per calabria anche calabria non l'ho visto mega lucido eh con con la cremonese ha fatto qualche errorino di di passaggio di troppo anche qualche chiusura di ero sbagliata di troppo quindi un po' di un po' di riposo ci potrebbe stare anche per lui sì eh io cioè poi guarda caso sono anche tipo gli unici due diaz e calabria che la partita l'han fatta mercoledì e che quindi perché gli altri perché dopo cioè avessi preso i tre punti con i secoli ma non si vede da nessuna parte lo sappiamo però questa partita qua è a tre giorni tre da milan inter tre e forse qui potevi optare per qualche in realtà quattro perdono potevi optare per qualche cambio in più qui avendo preso i tre punti con la cremonese a sette giorni da milan inter io queste cose non lo capisco poi possiamo venirci a dire eh è perché come dire il turnover non turnover è perché eh se si rompono poi vai a dire che è colpa del allenatore che li ha messi in campo però tanto oggi li metti in campo cioè domani quando è quindi non è che cambiano le cose cioè questo discorso vale se avessi fatto un mega turnover anche con la Lazio ma visto che con la Lazio non lo fai perché proprio perché hai buttato i miei punti con la cremonese per me è proprio un errore di valutazione gravissimo questo bastava mettere questa formazione contro la cremonese prendersi tre punti nel primo tempo perché per quanto mi riguarda coi titolari per come ha giocato la cremonese nel primo tempo che non era iper chiuso e ti ha lasciato qualche spazio in più tu quella partita la portavi a casa potevi farli riposare 45 minuti e farli riposare poi magari qualcuno extra tipo girù con la Lazio non lo hai fatto vai a mettere a quattro giorni della partita tutti i titolari con la Lazio per me questo un errore di valutazione e di scelte di queste due partite madornale poi magari fai tre punti con la Lazio questi si rodano un pochino mettono benzina nel motore e poi pialano l'Inter parliamo di altre cose naturalmente però col senno del prima lo dico per me mega 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 errore di valutazione su queste due partite sulle scelte va bene questi sono i probabili titolari della partita di domani speriamo bene perché la classifica che mi hanno fatto vedere prima insomma non ormai non ti aspetta più più che altro essendoci scontri diretti o se non fai risultato tu ti deve andare bene che pareggiano tutti per non alterarla altrimenti adesso i punti sono super pesanti e qualche squadra di queste tipo Atalanta tipo Lazio non ha nemmeno il doppio impegno quindi bisogna stare veramente molto molto attenti a quello che succederà domani io richiuderei così invece Diaz vertice per il sì il padre d'Abraim vuole il Milan Real pronto a trattare il numero dello spagnolo tra contratto e campo li vedete nel caso sono un po' piccolini ma ce li ricordiamo un po' tutti tra l'altro si avanza anche una probabile idea del Monza di chiedere di chitelare in prestito io non ce lo vedo mai e poi mai una roba del genere ogni tanto escono queste cose come Pato all'Udinese come aspetta chi è che c'era c'è stato ogni tanto qualche cosa del genere che se per caso c'è un nostro giovane che o in grana poco gioca non tanto eccetera in prestito così ma non giovani dalla primavera giovani già da prima squadra già di un certo tipo di livello che poi di chiedere non abbia reso un altro conto un giocatore preso pagato eccetera ha già un altro tipo di livello non va in prestito al Monza per mille motivi non che non sia giusto o sbagliato ma non va in prestito al Monza su Diaz invece Henry beh su Diaz è stato un giocatore che si è rivelato molto importante questa stagione io sarò molto franco per quanto mi riguarda è troppo presto per parlare di certe cose e si sta forse commettendo un altro un altro errorino cioè dovesse essere vera questa cosa qui è vero che Brahim sai già cosa ti dà sai già che giocatore è eccetera eccetera però come giochi il prossimo anno giochi con i tre centrocampisti giochi con il 4-2-3-1 con Messias Diaz Leao cioè i quattro attaccanti davanti Brahim viene più speso sull'esterno di destra perché se no c'è un overbooking a destra e soprattutto che budget si avrà il prossimo mercato ne spendiamo la metà poco meno della metà per Brahim anche se sappiamo già cosa ti rende o proviamo a fare dell'altro la spesa di Brahim mi implica e mi complica la spesa per la punta cioè vanno fatti dei ragionamenti secondo me un pochino più profondi che sicuramente avranno già fatto loro e faranno e faranno credo quotidianamente però ci sono tante cose da capire ma secondo me adesso il 5 di maggio quando sei in semifinale di Champions League e quindi sulla graticola e sei sesto in Serie A e quindi sulla graticola fare dei ragionamenti di mercato oggi è difficilissimo guarda per quello che riguarda Brahim e da quello che siamo venuti a sapere lato Milan nel bene o nel male decidete voi quale tutto si decide entro giugno al di là del del fatto che non c'è un riscatto nel prestito ma sia il Milan che il Real vogliono chiudere la questione tra di loro per Brahim entro la fine di giugno perché nel caso il Real poi ha luglio agosto per valutarlo o cederlo il Milan nel caso ha la possibilità di sistemare la questione prima e non portarsela per mesi quindi comunque avremo un giugno che su Brahim sarà abbastanza eh abbastanza caldo mi riguarda Brahim nella rosa del Milan ci sta ci sta e come non so se ci sta per fare il titolare 40 partite e non so se vale la pena spendere non so se vale la pena spendere 22 25 milioni 20 milioni quanti saranno per un giocatore che ripeto ci sta nella rosa e sarei contento se rimanesse rimanesse come buona riserva però non ha quelle cifre oppure te la te la te la sistema ancora di più abbiamo 100 milioni per il mercato e ne metti 50 per la punta ma benvenga che ne vengano spesi 20 per Brahim allora il concetto per me deve essere quello cioè dipende tutto da cosa potrai fare tu quest'estate se quest'estate gli altri investimenti anzi le priorità e sono l'attaccante la punta il centro avanti ve lo dico in tutti i nomi del mondo se volete il numero 9 eccetera poi ti possono far fare anche dell'altro con certo budget allora ti dico Brahim a 20 sai cosa me lo prendo se però è il budget è lo stesso dell'anno scorso o giù di lì o poco di più ne spendi quasi la metà per un giocatore così non lo so siamo arrivati in fondo anche a questo mattino milan a questa settimana di mattino milan e noi ci ritroviamo tra poco per chiama milan sull'altra piattaforma alle 13 lanci alle 16 c'è pelle rosso nera con carlo pelegati a pochi minuti dalla fine della conferenza di mister stefano pioli magari abbiamo qualche indicazione in più sulla formazione su quei ballottaggi di cui abbiamo parlato anche fino a poco fa poi da domani si parla solo soltanto di campo alle 14 il pre e alle a me per due conti 17 il post partita enri ciao 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 a tutti mi raccomando lasciate like diteci la vostra sotto nei commenti su Brahim sulla formazione e sul resto insomma scriveteci tutto quello che volete iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto attivate la campanella per tutte le notifiche grazie a tutti a dopo mai senza monge natural super premium le crocchette made in italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro grazie a tutti